Amici, camerata, comunisti, amici del Toro, pagliacci, bentornati in questo nuovissimo video, mi sono riuscito a vedere il derby, allora perché no, why not, why not, non ce ne saltiamo una dei nostri amici del Torino, facciamo un bel videaccio. Allora, non ci siamo proprio, non ci siamo proprio, allora la prestazione di per sé è anche buona a livello di intenzioni, a livello di grinta, a livello di pressing, a livello di intensità, è una partita volendo buona, che può essere definita buona, il problema è che non puoi veramente giocare un campionato senza attaccanti. Cioè, come puoi pensare, società del Torino Calcio, di giocare un campionato senza attaccanti, perché ripeto, Pellegri e Sanabria messi assieme sono due attaccanti da dieci gol, messi assieme, cioè che ne fanno forse dieci in due, se va bene. Sono due che non hanno quei movimenti da bomber, da centroavanti puro, forse Sanabria un po' di più, ma voglio dire, Pellegri è un eterno incompiuto, un fallitone calcistico, uno di quelli che a 16 anni ha preferito i soldi, poi per carità, scelta più o meno giudicabile, però voglio dire, è quello il tipo di calciatore, e che si è rovinato la carriera. Condita da tanti infortuni, è entrato, non ha praticamente toccato il pallone, l'area non la riempiva, cioè voglio dire che si giocasse con Pellegri, o senza Pellegri praticamente era la stessa identica cosa, anzi, almeno prima forse avevi un giocatore... Cioè, il cambio è giusto, perché devi provare a mettere l'unica punta che hai in questo momento, però veramente pochissima roba, veramente pochissima roba. Non mi è personalmente piaciuto Vlasic, più volte, cioè da uno come lui mi sarei aspettato qualche imbucata in più, non ci ha praticamente mai provato, sempre rinunciatario, sempre che tornava indietro con sto pallone, ogni tanto ha provato a tirare, ha avuto anche, secondo me, la migliore occasione del toro, quella che ha avuto lui sul suo piede, ha sciabattato di sinistro, io non so neanche di quale sia il suo piede, però quella sciabattata lì veramente c'è sul primo palo, lì secondo me poteva fare molto, molto, molto meglio. Poi, sapete, io sono fissato, cioè, per chi non mi conoscesse, io tifo il Cagliari, ma sono fissatissimo con la puntualità dei cambi. Juric, ma, cioè, va bene che magari non ci avrei una rosa competitivissima sia nei titolari che in panchina, ma non mi puoi fare i cambi al settantottesimo. Non mi puoi fare i cambi al settantottesimo. Cioè, Caramò era un giocatore da mettere già da prima, già da prima, il Torino, prima di prendere il goleron da fare i cambi, era una squadra sfilacciatissima agli ultimi minuti, perché chiaramente, ragazzi, se tu corri per tutta la partita senza avere un obiettivo qua in testa, perché il Torino non aveva un obiettivo in testa, perché l'obiettivo era, sì, arrivo lì al limite dell'area, passa da Lukic a Miran, Miranciucoglio, vabbè, adesso ci arriviamo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che pena, che pena, arrivi lì, il passaggino di qua, di là, e poi aggiungo un'altra cosa, cioè, volendo questo gioco, anche senza attaccanti, lo puoi fare, però allora devi portare il livello dell'intensità ad un livello ancora più in alto, cioè, per farci capire, questo gioco lo puoi fare, sì, se hai l'intensità dell'Udinese. Se hai la corsa, la fisicità, l'intensità dell'Udinese, puoi fare questo gioco senza punte, volendo, e magari ti esce qualcuno. Ma il Toro, cioè, io, ragazzi, sono sinceramente preoccupato, poi magari sì, contro le piccole si riuscirà a segnare, ma qua bisogna veramente trovare qualche scamotage, cioè, cercare di disegnare qualcosa, cercare di rivedere, non lo so, non so che cosa, per quanto, secondo me, ci siano dei giocatori che stanno overperformando clamorosamente, cioè, per me, Lazzaro, io, onestamente, per quel che avevo visto all'Inter e compagni cantanti, mi sembrava un bidone clamoroso, e il suo lo sta facendo benissimo, punta l'uomo, ha coraggio, ci prova. Ma oggi, secondo me, molto, molto male mi ranciucca anche, Blasic, ve l'ho già detto, non mi è piaciuto, mi ranciucca un giocatore che mi piace molto, ma, cioè, un po' di cattiveria, ragazzo, ma che cosa sono quelle cose? Tutto che, ah, aspetta, tiro, ah, 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 aia, mi fa male qua, mi fa male lì, tira, forse la passo, fammi fare questo rientro. Ma dai, un po' di cattiveria, va per favore, è veramente una cosa raccapricciante. E poi, ripeto, cioè, la telecronaca, ripeto, non è la prima volta che lo dico, però mi piace dire ripeto, ok? Creo questo ambiente un po' enfatico. Però, ripeto, cioè, la Juventus gode di questa telecronaca a favore imbarazzante, che dopo il gol, eh, un gol cercato, meritato, perché aveva già fatto gli interventi. Ma tolta che questo portiere, mi spiegate che fa sempre delle parate che non ne blocca a mezza, fa sempre questi interventi tutti scordinati, cioè che fa sembrare delle grandi parate, parate che magari, se sei un po' più attento e ben posizionato, la prende e la blocca tranquillamente. E poi, guardate, sul calcio d'angolo, prima di vedere la sponda ho detto, ma che cazzo non esce il portiere? È alto due metri e non esce mai, e quando esce fa delle uscite di merda, forse per quello che non esce voi mi direte. Sì, ma allora, cioè, ragazzi, questa squadra, allora è fortemente incompleta, è fortemente incompleta, 10.000 trequartisti, 10.000 giocatori, che non si capisce che cosa siano, se siamo più centrocampisti, trequartisti, giocatori di tecnica, di grinta, fraseggiatore, non si capisce un cazzo in sta squadra, manca un finalizzatore e manca un portiere, perché voi oggi mi direte, «Eh, ma come? Come fai a dare la colpa a Milinkovic?» Per me, ragazzi, è un portiere che non dà sicurezza al reparto, scusatemi, ma un portiere che vi fa quelle uscite quando ve le fa penose, che non ne blocca a mezza, non blocca a mezzo pallone. Ma si vede anche che i difensori stessi sono a disagio, anche lì, ma sul calcio d'angolo, ma questo dovrebbe uscire, 9 calci d'angoli su 10. Cioè, ma è veramente una cosa vergognosa. E poi, ripeto, cioè la Juventus gode di questa ancora, di questa telecronaca a favore, nella descrizione, dice, la Juventus non ha fatto un cazzo, è stata penosa. Era una partita che doveva finire in pareggio, fondamentalmente. Però dispiace, perché per la grinta, quantomeno, per l'atteggiamento che si è visto per 60 minuti buoni, il Torino avesse avuto un finalizzatore, avesse avuto uno su cui appoggiarsi, ma anche non un finalizzatore, intendo anche una punta fisica, intendo una punta fisica, vi faccio un nome, che mi viene così, Diuric, si chiama Diuric, quello che ha adesso al Verona, quello che era uno scorso dalla Sarnitana, che è un bidonazzo, probabilmente, che fa 5 gol anche lui sotto porta, ma è uno a cui quantomeno ti appoggi. Questi Pellegri, Sanabria, sono tutti giocatorini che non fanno gol, inserimenti, boh, forse, ma contro una squadra come la Juve, che gioca tutta nella sua area, viene anche difficile, no? Quindi, voglio dire, ma prendessi almeno un giocatore, uno scarso, ma alto, 1,90, 1,95, che ti fa le sponde, a cui ti appoggi, ti fa la sponde, almeno ti libera lo spazio per tirare, ti dai delle alternative su corner, i corner anche lì, boh, non c'è stata mezza occasione, ne ha avuti diversi, il Tor mi sembra, no? Poi, rimane anche questa, ripeto, i cambi per metardivi, poi non capisco, il signor Singo è stato male, cioè era infortunato, sapevo di sì, ma io, ripeto, Olaina non capisco che tipo di giocatore sia, è un giocatore forte, è un bidone, non capisco, c'è alterna delle cose, è veramente che dici, beh, questo certo, c'ha una corsa, un'intensità, una velocità, che può essere un buon giocatore, volendo essere anche titolare, e alterna poi delle cose, delle minchiate, c'è clamorose, c'è proprio, alcune volte mi sembra molle lì, che fa delle cazzate, stop sbagliati, passaggi fatti con sufficienza, non lo so, non riesco mai ad esaminare la sua partita, oggi per voi è positiva o negativa, ma forse è positiva, però mi sembra sempre anche lui un po' un altro, un altro inconcludente, un altro inconcludente, poi anche sul centrocampo, sti fraseggi, ste cose, tiri dalla distanza, non uno che abbia provato un tiro buono, cioè perché poi, hanno fatto anche diversi, provato diversi tiri dalla distanza, ma uno peggio dell'altro, cioè veramente, a sto punto cambiati i piedi, una cosa vergognosa, a livello difensivo, cosa vi devo dire, è stata una partita anche positiva, a volte sono un po' sfilacciati troppo, i reparti, ci sta, è stata una partita coraggiosa, andavano fatti i primi cambi, perché la squadra era stanca, avrei voluto vedere questo il can, che la volta che ho visto contro il Lecce, a me era piaciuto, perché ha avuto una certa personalità, non so se poi abbia rigiocato, ma l'aveva riprovato, ripeto, cambi tardivi, e bisognava leggere un po' prima la partita, e ragazzi, cioè parliamoci chiaro, allora, giusto per configurare il campionato del Torino, dove potrebbe o non potrebbe andare, a livello di Europa, lo escludo categoricamente, ma penso che anche gli stessi tifosi, cioè, questa squadra non potrà mai, andare in Europa, senza un attaccante, senza un portiere valido, e con una panchina di livello, perché io ora, ragazzi, io non lo conosco così bene il Torino, quindi ditemi voi, ma è possibile che in un derby, dove hai corso per 60 minuti, per praticamente fare un cazzo, perché poi arrivavi di lì, e correvi ancora cercando qualcosa, ma non facevi nulla, ma, cioè, non lo so, ma è possibile che arrivi a fare i cambi all'ottantesimo, ma è possibile? Cioè, allora, manca l'attaccante, le riserve a sto punto, non lo so, non ci sono, a quanto pare, le riserve mancano, e manca il portiere, perché il portiere è per me imbarazzante, cioè, poi ripeto, oggi, la grande telecronaca, che deve enfatizzare, il niente fatto dalla Juve, mi dispiace anche per la Juve di questa situazione, lo so, vi farà ridere, ma io sono un simpatizzante del Torino, che non odia, non disprezza assolutamente la Juventus, però, veramente, io speravo vincesse doppiamente il Torino, perché volevo fuori dai Maroni questo Allegri, che è veramente una disgrazia clamorosa. Quindi, questo è quanto, ragazzi, così non va bene, sono contento, voglio continuare a commentare le partite del Torino, fatemi sapere se vi è piaciuto il video, un bacione, iscrivetevi amici del Toro, ciao ragazzi!